ciao 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 a tutti dunque queste sono alcune cose che mi piacerebbe riuscire a realizzare nel futuro nel senso che mi piacerebbe proprio riuscire a convincere qualcuno quando io ho un'idea perché non sono carismatica proprio per niente mi piacerebbe che un giorno in una discussione una persona una posizione io ne ho completamente un'altra io riesco a manipolare intrecciare e portarlo insomma dalla mia verso il mio punto di vista non ci sono mai riuscita nella vita quindi non vi preoccupate però insomma sarebbe molto interessante quindi questo è una cosa per il futuro molto molto in là magari fra trent'anni se l'avrò fatta una una volta una volta nella vita per il resto sto continuando a fare il giro delle ditte per cercarmi un lavoro che ovviamente non trovo sono molto attiva su steemit quindi seguitemi su steemit non sono molto di più che su youtube perché youtube adesso che ho fatto questo errore di massacrare un po i miei eter non ho molto più seguito quindi lieta servono anche se anche se è un po di tempo che per esempio non sento più il mio eter cattolico quindi mi sto chiedendo che fine abbia fatto non che mi manchi anche se lui pensa che io sia totalmente innamorata di lui il che non è vero perché è un pochettino bruttino cioè non è proprio il mio tipo ecco è bassino quei capelli un po pettinati di cui un po pettinati di cui delle volte si fa le creste a me non piace cosa devo dire sono un po difficile coi capelli ecco sono un bel caratterino comunque niente detto questo vi saluto e vi mando un bacio